Chi siamo? Siamo l'ennesima generazione che sta nel mezzo, né carne né pesce. Siamo quelli che presa la laurea si sono resi conto che probabilmente per lavorare non faranno mai qualcosa attinente al proprio percorso di studi. Siamo quelli che vivono ancora a casa con mamma e papà e sanno che con questi chiari di luna la situazione è ben lungi dall'essere risolta. Siamo quelli che non sanno quello che faranno da grandi e se ci chiedono cosa vorremmo fare, escludendo l'astronauta, la ballerina e simili, francamente non lo sappiamo. Non siamo ingegneri, avvocati, architetti o medici. Non siamo specializzati. Abbiamo una buona cultura, ma a lavorare come culturologo non si mangia. Abbiamo fatto la vita del trentenne a vent'anni e ora siamo dei vent'anni con qualche ruga in più. Siamo spaventati dal futuro e disorientati dal presente e allora continuiamo a vivere nel passato. Siamo spaventati dal presente e allora continuiamo a vivere nel passato.